Intorno al 117 d.C., nel momento della massima espansione di Roma, la situazione era fondamentalmente questa. In Francia c'erano i Galli, nell'attuale Gran Bretagna si trovavano i Britanni e in Germania c'erano i Germani. Più o meno in Romania vivevano i Daci e nell'odierna Bulgaria i Traci. I temibilissimi parti avevano un regno indipendente nell'attuale Iran e bloccavano l'ulteriore espansione romana verso est. Poi c'erano i Numidi, fra Algeria e Tunisia, i Mauritani in Marocco, i Nabatei nell'Arabia Nord-Occidentale, i Quadi e i Marcomanni ai confini del Danubio, all'altezza dell'Austria, e ancora moltissimi altri popoli.